L'ultimo pezzo è un pezzo invece di Massimiliano Milesi, si intitola Limografi Rodenti che è l'anagramma dell'ideologo del gruppo che si chiama Martino Fedrigoli che doveva venire questa sera non è venuto per cui cambieremo il titolo di questo pezzo e che Massimiliano ha pensato di dedicare a lui, è un pezzo che richiama le atmosfere funk di Miles di quegli anni Massimiliano, questa è la sua visione del Miles di quegli anni ha dei problemi Massimiliano, come tutti noi è stato sì Grazie a tutti 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 Grazie a tutti